Non sono solo preoccupazioni ma è proprio una vera emergenza economico-sociale perché ci troviamo di fronte a una situazione dove molti cantieri non si sono potuti concludere perché oltre alla difficoltà di approvvigionamento che c'è stato nei tempi passati c'è anche una problematica legata alla liquidità. Cioè le imprese pur avendo maturato dei crediti non sono riuscite a cederli per tutti quegli interventi normativi che ci sono stati e che hanno creato una grande confusione e quindi hanno allontanato le banche dall'acquisizione del credito, tutta questa incertezza le ha allontanate. E quindi le imprese si sono andate a trovare una situazione di mancanza di liquidità e quindi a dover frenare con i lavori perché non riuscivano più a mantenere i pagamenti. E questo si traduce in un problema enorme perché come sappiamo il 110 a partire dal 31 dicembre 23 passerà dal 110 al 70%. Quindi tutti i condomini si troveranno nella condizione di pagare la differenza e chiaramente noi sappiamo chi vive nei condomini molto spesso non ha la possibilità di far fronte, cioè ha iniziato i lavori tenendo conto che non doveva tenere, non sborsare cifre così elevate. Pertanto adesso si troverà nella condizione di poter tirar fuori questi soldi e questo chiaramente porterà a un grosso contenzioso legale tra imprese e condomini e anche con l'agenzia delle entrate. Questa è la migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi le imprese non riusciranno proprio a andare avanti con i lavori e quindi non riusciranno a concluderli e quei crediti maturati fino allora dovranno essere rifusi all'agenzia delle entrate. E questo penso che determinerà veramente un problema sociale di portata enorme perché chiaramente quei lavori poi qualcuno li deve pagare, saranno i condomini e quindi si accenderà un contenzioso con le imprese. Io non oso immaginare quello che potrà succedere. Come CNA c'è la voglia, l'intenzione di sollecitare il governo a capire che i tempi della burocrazia non sono poi tempi che in realtà è una proroga necessaria. Allora noi anche a livello nazionale abbiamo già inoltrato il governo una richiesta di proroga. Cioè per tutti quei condomini che sono arrivati al 60% il 30 settembre potranno usufruire della proroga. Ma è una condizione necessaria ma non sufficiente perché come ho detto bisogna che sbocchiamo anche tutti i crediti incagliati perché è inutile avere una proroga e poi le imprese non sono in condizione di proseguire i lavori perché mancano di liquidità.